Segnalate e denunciate come hanno fatto questi bravi cittadini di via Genova che ringrazio infinitamente di non aver avuto paura e anzi aver visto, aver chiamato e essere disponibili a fare tutto quello che c'è da fare insieme al veterinario e andremo fino in fondo. Due gatti avvelenati in via Genova a pochi passi dal centro storico e a retino a lanciare l'allarme è stata l'empa di Arezzo dopo la segnalazione di alcuni cittadini. L'abbiamo rintracciato praticamente qui nel piazzale e era appunto con dei spasmi a livello neurologico, pupille dilatate, è venuto fuori che molto probabilmente erano sintomi di avvelenamento. Ma qui comunque c'è già stato un precedente diversi anni fa nel terreno praticamente poco di qui distante dove appunto è stata fatta una vera e propria strage di gatti. I gatti sarebbero morti per avvelenamento da metaldeide, un composto chimico velenoso usato in agricoltura come lumachicida. Muoiono malissimo, muoiono con crisi epilettiche dopo un po' di tempo nonostante le cure veterinari, diciamo il soccorso essere stato portato dal veterinario. Quindi veramente poche parole, altro che in civiltà. Non si tratterebbe però di un caso isolato, negli ultimi giorni si sono verificati altri episodi di morti per avvelenamento a causa di polpette killer. Ricordo che le pene sono molto molto pese, è un atto inutile di crudeltà, completamente inutile e incivile. Riacquisiamo un po' di senso civico nella nostra città.